Era proprio una signora molto buona e dobbiamo proprio ricordarla così, col sorriso. È stata una cosa straziante proprio per il paese, per tutto. È un periodo brutto per il nostro paese. Come la ricorda la signora Biarangela? La ricordo una signora splendida, vive anche lei per la famiglia, per i figli, come tutti. Per i nostri figli succede queste cose una cosa straziante. Non riesco a pensare ora a quanto ci mancherai, mi mancherai. Ed anche se è stato quel treno a dividerci, grazie per essere salita sul treno della mia vita. È una signora molto gentile, era amica di mia figlia, no, perché è la stessa età. Sono diventate grandi insieme. Era proprio, guardi, una signora molto buona e dobbiamo proprio ricordarla così, col sorriso. Grazie.